L'origine del nome Iveroni deriva da tre terrazze che erano intorno alla fattoria e che servivano per essiccare le foglie di tabacco e di grano che venivano coltivate lungo la piana dell'Arno. Passando a descrivere i nostri due principali prodotti abbiamo il Chianti Rufina di OCG Iveroni che è un blend di 90% Sangiovese e 10% Canaiolo. L'affinamento di questo prodotto è di circa 12 mesi imbotti da 25 ettolite di rovere di Slavonia. Questo è il nostro prodotto di successo che vendiamo particolarmente sia nel nord Europa che in America e abbiamo un ottimo risultato in Toscana e soprattutto nella nostra città Firenze. Passiamo poi al nostro crew, sono uve, il Chianti Rufina riserva è composto di uve di Sangiovese selezionate dalla miglior vigna che noi abbiamo che è la vigna San Martino. L'affinamento di questo Sangiovese avviene per 18 mesi intorno a 500 litri di rovere francese ed è il nostro prodotto simbolo e rispecchia la volontà dell'azienda a produrre vini di alto livello. Promosso dalla Camera di Commercio di Firenze